Che cos'è la menopausa? La menopausa è caratterizzata dall'assenza di flusso mestruale da almeno un anno, quindi una diagnosi retrospettiva. Avviene a 50 anni nella media e incide almeno su 12 milioni di persone attualmente in Italia. Accanto a questa menopausa fisiologica abbiamo anche una menopausa precoce quando avviene prima dei 40 anni, una menopausa indotta quindi farmacologica o chirurgica, ma io vorrei precisare maggiormente l'aspetto che riguarda la sindrome climaterica. Per sindrome climaterica noi intendiamo tutto quel corteo di segni e sintomi che si accompagnano alla menopausa e che avvengono a medio termine, a breve termine e a lungo termine. A breve termine avremo principalmente le alterazioni del ciclo mestruale, dal punto di vista principalmente della menorrea, ma anche della polimenorrea, cioè di più cicli all'interno dello stesso mese e le alterazioni vasomotorie, disturbi vasomotori che rendono la qualità della vita delle donne è piuttosto difficile, le vampate, le caldane, una certa irritabilità, abbiamo i disturbi del tono dell'umore, alterazioni articolari con dolorabilità diffusa, disturbi della concentrazione. I disturbi a medio termine della sindrome climaterica riguardano principalmente la sofia delle mucose urogenitali, quindi la possibilità di avere infezioni urinarie recitivanti, secchezza vaginale, vaginiti, bruciore, prurito, mentre a lungo termine abbiamo una malattia a carattere sociale che è l'osteoporosi, incide circa su 5 milioni di persone in Italia attualmente ed è caratterizzata da una perdita progressiva della massa scheletrica, della massa ossea. Questa malattia deve essere quindi per questo motivo contrastata subito attraverso terapie specifiche, uno stile di vita, via via attraverso consigli che solo il ginecologo può dare. Vorrei porre l'accento però particolarmente sull'attuale considerazione che hanno le donne del proprio corpo. La nuova generazione delle cinquantenni non è quella del passato, si tratta spesso di donne in carriera, si tratta di donne molto più attente alla propria estetica e che per questo si rivolgono al ginecologo e quindi a fianco a una chirurgia estetica tradizionale noi abbiamo visto l'insorgenza di metodiche chirurgiche e mediche che hanno cercato in qualche modo di migliorare anche la sessualità di queste donne. Mi riferisco oltre che agli interventi quindi di chirurgia plastica vaginale come il vaginal tightening che è un vero e proprio ringiovanimento che le donne specialmente che hanno partorito più volte chiedono al ginecologo, anche a quelle che sono alcune attrezzature laser come il Mona Lisa Touch che è un CO2 frazionato o anche lo YAG Herbium Laser o Petty Lady, manipoli che consentono attraverso applicazioni distanziate di alcuni mesi di ottenere un miglioramento del etrofismo vaginale e una maggiore soddisfazione dal punto di vista sessuale per queste donne.